Bianca Balti ha affrontato la sua battaglia contro il tumore ovarico con una forza e una trasparenza che hanno ispirato migliaia di persone. Fin dalla diagnosi, la top model italiana ha scelto di condividere ogni tappa del percorso di guarigione, mostrando al mondo il lato più vulnerabile della sua vita. Tra operazioni, cicatrici, chemioterapia e tagli di capelli, Bianca non ha mai nascosto la difficoltà del momento, ma ha voluto raccontare ogni dettaglio attraverso i social. In uno dei momenti più toccanti del suo percorso, Bianca ha recentemente pubblicato un video su TikTok, apparendo per la prima volta completamente rasata. La didascalia scelta per accompagnare il post recita, unce a bad bch, always a bad bitch, un messaggio forte che esprime la determinazione a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Con la colonna sonora di un classico Disney e la frase she gave no fucks, not even one, Bianca mostra una trasformazione che va oltre l'aspetto fisico, è una dichiarazione di resilienza e di coraggio. Questo periodo difficile ha messo in luce una Bianca Balti più forte e determinata che mai capace di affrontare la malattia con una dignità e un coraggio che non solo la sostengono, ma che ispirano e incoraggiano anche chi la segue.